Avevo avuto una bellissima impressione durante questo orientamento, non la conoscevo e la sono venuta a conoscenza grazie al mio professore a scuola che ci ha introdotto a questo orientamento e diciamo è stata la mia prima esperienza però l'ha valuto molto positiva. Oltre a non essere una normale università, avere vitto e alloggio, offre anche un livello in più dopo che mi sono laureata e quindi questa per me è una cosa fondamentale per trovare lavoro. La cosa che mi ha colpito il più di questo seminario è stato il primo corso, quello che riguardava la filologia, mi ha aperto un nuovo mondo, uno studio diverso riguardo i classici, diverso da quello che faccio alla scuola superiore. La scuola è organizzata in aree scientifiche ma la caratteristica fondamentale di queste aree scientifiche è che sono aree trasversali. Noi tendiamo a unire le aree di interesse, in particolare per space si intende tutto ciò che è connesso con la cosmologia, con la scienza dello spazio e con le tecnologie dello spazio. Fondamentalmente vuol dire che nella mia area possono afferire studenti di fisica, di matematica e di ingegneria aerospaziale.